il titolo di questo libro che è dedicato a Lacan e uno potrebbe dire ancora Lacan eh sì ancora Lacan e cercherò di spiegare perché ancora Lacan voi sapete che ancora è il titolo di un seminario di Lacan seminario 20 ancora è il nome che Lacan dà all'amore è la parola più profonda dell'amore quando c'è amore sorge la parola ancora 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 è la parola dell'amore e allora un altro testo ancora su Lacan è perché effettivamente l'incontro con Lacan è stato per me un vero incontro e i veri incontri non si esauriscono mai si potrebbe dire che un vero incontro non si compie mai del tutto e cioè un vero incontro si rinnova continuamente e allora ancora è anche la parola dell'incontro che in quanto non può mai compiersi del tutto si rinnova continuamente ora questo è uno delle due parole che danno il titolo a questo libro che è Jacques Lacan ereditare il reale abbiamo due parole una è la parola eredità e l'altra è la parola reale e quello che vi ho raccontato sino a qui sull'ancor ancora non è finito l'incontro che c'è stato ancora è un modo di dire l'eredità chi è il vero il giusto erede come si chiede Lacan nel seminario 23 chi è il giusto erede è colui che non acquisisce una rendita passivamente non acquisisce qualcosa che si dà come già compiuto al passato non acquisisce proprietà non acquisisce dna non acquisisce beni non acquisisce geni l'eredità è un movimento in avanti non è un'acquisizione passiva ma è appunto un movimento in avanti che mostra che l'incontro non si è mai non si è ancora del tutto compiuto e quindi diciamo così Lacan non è semplicemente qualcosa che è stato non è qualcosa che dobbiamo collocare diciamo nel cimitero della storia nel cimitero dei ricordi ma per un erede ciò che l'erede eredita è ancora vivo è ancora vivo nostro incontro si deve ancora compiere del tutto diciamo così no ora se ci pensate appunto è la stretta analogia che imparenta la questione dell'eredità come movimento in avanti secondo una formula celebre che conclude la grande opera di Freud nel compendio di una psicoanalisi Freud conclude in modo testamentario la sua opera con questa frase che in realtà riprende da Goethe che ho citato tante volte ma insomma possiamo ricordarla anche qui quando Goethe scrive se vuoi davvero ereditare ciò che i padri ti hanno lasciato devi riconquistarlo ecco il movimento di Lacan rispetto a Freud alla eredità di Freud è un movimento di riconquista un giornalista mi ha chiesto in vista di questo incontro lei pensa che Lacan sia il miglior allievo di Freud e la mia risposta è stata no più che un allievo Lacan è stato un giusto erede e perché è stato un giusto erede perché ha come dire eh reso l'incontro con Freud ehm ancora vivo ancora vivo eh non si tratta dunque per Lacan di fare una filologia di Freud di fare un'archeologia di Freud ma di pensare che Freud è il nome di un incontro ehm è un nome di un incontro che eh diventa luogo di un'eredità questo direi che è un primo punto che noi ehm dobbiamo così segnalare ma quando un incontro è un incontro diciamo Freud è stato l'incontro di Lacan l'incontro decisivo per Lacan e si potrebbe dire ma non voglio mettermi in questa sequela evidentemente che per me lo ricordava Armando Lacan è stato un incontro ma quando qualcuno è un incontro per qualcun altro quando qualcuno diventa un incontro eh quando diciamo così ehm l'incontro uso una parola che la lingua italiana ci consente no di dire quando l'incontro fa presa fa presa l'incontro è una scusate il gioco di parole è una sorpresa non c'è programmazione dell'incontro non c'è automatismo dell'incontro non c'è previsione possibile dell'incontro l'incontro è una sorpresa nel termine sorpresa qualcosa fa presa nell'incontro noi siamo presi dalla sorpresa dell'incontro stesso siamo presi cosa vuol dire siamo presi cos'è la presa perché Freud è stato una sorpresa per Lacan perché Lacan si è sentito preso da Freud e perché quando facciamo un incontro per esempio un incontro d'amore noi ci sentiamo presi dal da chi appunto abbiamo incontrato beh la presa implica la sorpresa qualcosa di inaudito inatteso imprevisto sorpresa ma anche ehm l'incontro fa presa nel senso in cui si dice per esempio che il ghiaccio fa presa sull'acqua no o quando si dice della maionese che fa presa non impazzisce ma fa presa cioè quando acquista una forma la sorpresa è l'incontro con l'inatteso con l'inaudito appunto col sorprendente ma al tempo stesso fa presa fa presa la maionese non gira a vuoto ma prende forma eh il ghiaccio è il modo in cui l'acqua viene presa eh Lacan è stato preso da Freud si potrebbe dire così Freud è una è la sorpresa di Lacan e con tutte le debite eh differenze ovviamente abissali nel mio piccolo Lacan è stato una sorpresa un incontro inatteso inaudito che ha fatto presa cioè ha dato alla mia vita una forma ha fatto sì che io non diventassi una maionese impazzita diciamo così no ehm ha dato forma alla alla vita la seconda categoria la secondo termine che compone il libro è il reale su questo voglio dire delle cose diciamo spero nel modo più semplice possibile però il concetto di reale se è un concetto ecco appunto il reale è il grande tema della eh riflessione di Lacan noi siamo abituati ad utilizzare quasi come sinonimi il reale e la realtà non facciamo differenza la nostra stessa lingua non fa differenza tra il reale e la realtà confondiamo il reale e la realtà Lacan invece eh uno dei dei grandi contributi che Lacan dà alla psicanalisi è distinguere categorialmente con cioè con rigore la realtà dal reale con l'idea che il reale non è affatto la realtà che il reale non coincide con la realtà ma il reale è piuttosto diciamo così per cominciare a dare una prima definizione molto generale il reale per Lacan è piuttosto quell'urto che sfalda il quadro ordinato stabile della realtà allora potremmo dire così che la realtà ha come caratteristica la permanenza la stabilità la fissità anche si potrebbe dire il quadro della realtà è un quadro costante stabile ordinato per esempio il quadro in cui tutti noi siamo adesso è il quadro della realtà e il circolo dei lettori è una realtà come si dice eh che dura nel tempo stabile sufficientemente ordinata ehm i suoi luoghi sono riconoscibili noi siamo nel quadro di questa realtà e il reale invece dobbiamo supporre che eserciti una funzione di trauma sulla realtà allora il reale è definizione il trauma che destabilizza il quadro ordinato della realtà e allora la domanda che ci facciamo che dobbiamo farci se se vogliamo seguire Lacan è ma se il reale è il trauma che destabilizza il quadro della realtà di cui già Freud parla perché quando Freud parla a suo modo del trauma per esempio una delle scene che Freud evoca per sintetizzare il trauma assomiglia un po' una sala di teatro dice Freud in cui scoppia un incendio e le porte sono chiuse ecco il trauma noi eravamo venuti per assistere ad una rappresentazione la rappresentazione teatrale a quadro della realtà e invece della rappresentazione teatrale qualcuno grida nella sala fuoco c'è il fuoco aiuto e l'irruzione del fuoco altera destabilizza scompone sfalda il quadro ordinato della realtà c'è angoscia c'è la precipitazione degli spettatori verso le porte e poi Freud aggiunge ma immaginiamo che le porte siano chiuse massimo di angoscia siamo intrappolati siamo topi nella gabbia questa sensazione appartiene non al registro della realtà ma al registro del reale ma allora dove vi voglio portare intanto qui a vedere che noi possiamo se il reale è questo se il reale è il trauma della realtà è ciò che destabilizza la realtà Lacan trova il suo paradigma più puro il paradigma più puro nel del reale in una esperienza comune che tutti noi abbiamo fatto almeno una volta nella vita c'è chi la fa costantemente che è quella dell'incubo che cos'è l'incubo per Lacan che rilegge Freud l'incubo è quell'esperienza per cui noi entriamo in un contatto troppo ravvicinato con il nostro reale cioè diciamo così con il nostro peggio con ciò che esorbita la dimensione narcisistica dell'io cioè di quello che noi crediamo di essere entriamo in contatto con la parte più in ombra direbbe Jung con la parte più scura più buia più informe più acefala più scabrosa di noi stessi e in quel momento ecco l'incubo il contatto è troppo ravvicinato ecco l'incubo la funzione secondo Freud difensiva dell'incubo ci svegliamo per ristabilire la distanza con quella parte per rimettere per coprire il reale con la realtà ci svegliamo per tornare a dormire ma si potrebbe dire che nel quadro della realtà tutti noi siamo addormentati chi ci sveglia il trauma del reale e dunque è il trauma del reale che ci costringe al risveglio dall'ipnosi o dal sonno della realtà non so se è chiaro questo primo primo passaggio possiamo proseguire chiedendoci ma quali sono per Lacan al di là dell'incubo che pure è un punto importante del suo ragionamento quali sono gli altri modi e quali sono i modi sottolineo il termine modo al plurale come lo usa Lacan nel seminario 7 quali sono i modi di apparizione del reale che scompaginano il quadro della realtà finora abbiamo citato l'incubo ma quali sono gli altri modi di apparizione del reale e Lacan distingue nel libro voi troverete questa geografia distingue due modi molto diversi tra loro che possiamo come prima approssimazione distinguere in modi affermativi e in modi oppressivi il reale cioè si può presentare in un modo affermativo o in un modo oppressivo modi affermativi in cui appare il reale per esempio uno degli esempi che Lacan fa è quello dell'opera d'arte l'incontro con l'opera d'arte è l'incontro non con la realtà ma con un reale un reale che buca la realtà che destruttura le realtà che che mi mostra un'altra faccia della realtà che mi obbliga a leggere in modo nuovo la realtà l'opera d'arte secondo una formula molto celebre di Heidegger che Lacan riprende è un evento del reale cioè un rancontra un incontro rancontra ma anche nella lingua italiana incontro implica che noi come dire facciamo esperienza di una resistenza di un contro e nell'opera d'arte noi facciamo esperienza di una come dire di un incontro inatteso che ha l'effetto di mettere sotto sopra il quadro della realtà così come lo concepiamo si potrebbero citare per esempio le avanguardie storiche il cubismo il surrealismo ma anche il taglio di fontana sono tutte diciamo così manifestazioni di un reale che scompagina il quadro canonico ordinato della realtà Heidegger usa la parola Stoss che in tedesco indica proprio l'urto l'impatto il rancontra dove in primo piano è il contro dell'incontro l'incontro con qualcosa che ci obbliga come dire a cambiare posizione l'opera d'arte è per Lacan l'evento dell'opera è per Lacan un modo affermativo del reale un altro modo affermativo del reale è l'incontro d'amore si potrebbe dire che l'incontro d'amore per eccellenza è incarna diciamo così la dimensione affermativa del reale la mia vita girava abitudinariamente organizzata tutto era al suo posto diciamo così tutto era amministrato regolarmente e da un certo punto c'è una l'irruzione di un reale di un incontro l'incontro d'amore che disarticola l'amministrazione della realtà questa disarticolazione per un verso è traumatica ma è affermativa perché potenzia la vita quindi l'incontro d'amore è un'irruzione del reale che destruttura il quadro della realtà ma il suo traumatismo è generativo cioè potenzia la vita rende la vita più viva è la strana parentela che Lacan indaga in un seminario seminario 15 tra il l'incontro l'incontro il reale e la grazia che è strano la grazia cosa c'entra la grazia è un concetto che viene dalla tradizione cristiana ma noi lo diciamo no è una grazia la grazia averti incontrato è una grazia è la grazia dell'incontro qualcosa di imprevedibile inatteso inaspettato è la grazia del reale è la grazia dell'incontro del reale opera d'arte l'amore e da questo punto di vista si potrebbe dire che allora ogni incontro in quanto tale dovrebbe essere un incontro d'amore perché è un incontro che rimette in moto la vita ogni volta che noi facciamo un vero incontro facciamo un incontro d'amore anche quando si incontra un maestro per esempio quando Lacan incontra Freud fa l'esperienza di un incontro che cambia la sua vita che continua a scriversi che fa appunto sorpresa che fa presa sulla vita un altro esempio di reale affermativo è quello che Lacan chiama il desiderio dell'analista cioè l'incontro con un analista quindi l'esperienza della psicoanalisi è l'esperienza di un reale che mette sotto sopra la vita diciamo ordinata dell'io e che costringe il soggetto ad una trasformazione questa trasformazione messa in moto provocata causata dal desiderio dell'analista trova nell'espressione di Freud che chiude la lezione 31 dell'introduzione alla psicoanalisi cioè dove era l'es io devo avvenire che per Freud è il motto diciamo così dell'esperienza analitica ma dove era l'es significa precisamente che io devo avvenire laddove l'inconscio il mio inconscio si è manifestato a me stesso come una chiamata come qualcosa che chiama l'inconscio è per Lacan che rilegge Freud qualcosa sa l'es qualcosa che chiama in ogni incontro c'è qualcosa che chiama che chiama a far che che chiama per esempio ad assumere il nostro desiderio riguardava un film come si chiama il film del ballerino che sembra gay Billy Elliot che in realtà non è gay ma è semplicemente uno che è appassionato della danza ballerino padre minatore siamo nell'Inghilterra periodo taceriano grande crisi economica e questo vuol fare ballerino papà lo vede col tutu ma perché non fai pugilato no fa il ballerino avete presente la storia in questo film c'è un passaggio l'ho rivisto recentemente un passaggio straordinario in cui il ragazzino ormai cresciuto e ha imposto ai genitori il suo desiderio cioè non ha ceduto direbbe Lacan sul suo desiderio ha voluto fare il ballerino classico quelli con le punte e i piedi e dunque viene iscritto in una grande scuola inglese di danza e fa la prova dopo aver fatto la prova straordinariamente bene viene fermato dagli esaminatori e gli chiedono ma per te che cos'è la danza? e se vi ricapitasse di rivedere questo film penso fermatevi sulla risposta che questo ragazzino dodici, tredicenne dà a questa domanda degli esaminatori ma per te che cos'è la danza? e lui inizia molto blando diceva è qualcosa che mi piace sono lì tutto rigido fisso seguo degli schemi e ad un certo punto ho la sensazione di non esistere più di scomparire e divento cito pura elettricità energia volo sono un uccello sono un uccello in volo puro atto pura elettricità questo dice questa è esattamente la restituzione alla lettera diciamo di pura elettricità ecco quando c'è pura elettricità quando noi facciamo esperienza del desiderio in atto il desiderio in atto è davvero pura elettricità è davvero la dimensione possibile della gioia non della felicità sulla quale la psicanalisi ha grandi dubbi cioè la felicità come condizione d'essere per la psicanalisi è un po' diciamo è un po' un'illusione potremmo dire si potrebbe dire parlare dell'illusione della felicità che cosa non è illusorio e quando Billy Elliot balla e mentre balla è pura elettricità quella è la gioia quello è il desiderio che diventa puro atto come direbbe Lacan che non insegue l'oggetto che è separato dall'oggetto e che è proprio perché è separato dall'oggetto non insegue l'oggetto per esempio l'oggetto d'amore non insegue l'oggetto per esempio il denaro non insegue nulla perché è pura gioia è l'eccedenza della gioia questo è il reale sul lato affermativo cioè l'essere in atto del desiderio l'essere in atto del desiderio e questo a questo sprona una psicoanalisi non a rendere possibile la felicità che appunto per Freud era un'illusione ma a rendere possibile l'atto del desiderio come atto di gioia qui siamo sulla parte diciamo così affermativa del reale abbiamo detto l'opera d'arte abbiamo detto l'amore abbiamo detto il desiderio dell'analista come ciò che mette in atto il desiderio del soggetto poi ci sono i modi oppressivi del reale e i modi oppressivi del reale per esempio sono quelle della voce psicotica su cui Lacan si sofferma anche nel libro cerco di ricostruire la teoria lacaniana della voce psicotica cioè lo psicotico che si sente incalzato dalla voce dalla voce metallica dalla voce che lo insulta dalla voce che lo prende a bersaglio è il dramma del soggetto paranoico che si sente braccato da cospirazioni è il dramma del soggetto tossicomane che si sente nell'impossibilità di separarsi dall'oggetto e che quindi non conosce l'atto di gioia del desiderio ma solo la schiavitù dell'oggetto droga e potremmo dire citando un passaggio molto importante delle confessioni di Agostino che Lacan dichiara di aver letto 33 volte invitando a fare lo stesso i suoi allievi che credo non lo abbiano seguito diciamo con grande entusiasmo rispetto a questa ma perché chiede i suoi allievi studiate le confessioni di Agostino perché in Agostino la dimensione oppressiva del reale e la dimensione affermativa del reale sono centrali la dimensione affermativa del reale per Agostino è l'incontro con Dio che è l'incontro con la gioia cioè con l'atto del desiderio e la dimensione oppressiva tutte le confessioni parlano della dimensione oppressiva del reale il tormento del reale e vi voglio fare solo questo esempio che fa Agostino che molti di voi conosceranno perché è un esempio luminoso Lacan non l'ha mai preso in esame ma lo faccio io insomma perché penso che sia pertinente con il ragionamento di Lacan Agostino parla della sua adolescenza inquieta dei calori sensuali dell'adolescenza della dipendenza dal sesso eccetera eccetera ricordiamoci che quando Agostino scrive le confessioni è un vescovo parla delle polluzioni notturne parla delle sue pulsioni più scabrose si confessa pubblicamente ma in questo racconto nella prima adolescenza c'è una scena che poi diventa ha suscitato tanti commenti che nota come il furto delle pere pere nel senso dei frutti ovviamente il furto delle pere insieme a una compagnia di amici si trova di fronte una cinta dentro la cinta c'è un albero di pere gli amici e lui scavalcano la cinta saccheggiano l'albero di pere se ne vanno si chiede Agostino attenzione e qui vediamo veramente delinearsi la dimensione oppressiva del reale perché abbiamo rubato le pere per il bisogno cioè per la fame risposta di Agostino no non avevamo fame quindi il bisogno non è la chiave per leggere questo gesto per come dire oltrepassare la soglia della legge dunque per trasgredire la legge per il brivido di trasgredire la legge no dice Agostino attenzione perché questa sarebbe la lettura più semplice cioè leggere il furto delle pere attraverso l'assioma Paolino secondo il quale la legge cioè il divieto la proibizione provoca il desiderio a oltrepassare la legge la proibizione si potrebbe leggere così la scena no non è per fame che abbiamo rubato le pere abbiamo rubato le pere perché la proibizione di accedere alle pere accendeva il nostro desiderio di trasgredire si potrebbe leggere così e sarebbe una lettura anche plausibile per certi versi una lettura che Lacan evoca attraverso Paolo nel seminario 7 cioè quando la legge proibisce un oggetto la legge incendia il desiderio di quell'oggetto si vede già con i bambini se un bambino si dice non puoi fare questo è quello che vuol fare si vede in Genesi nella prima grande trasgressione di Adam dell'umano la trasgressione della legge che vieta l'accesso ai frutti dell'albero della conoscenza ma Agostino dice una cosa in più attenzione non è per bisogno non è per desiderio cioè per il brivido della trasgressione è perché attraverso questo furto Giovanni Reale dà questa traduzione le traduzioni di queste parole sono diverse ma insomma prendo la traduzione di Giovanni Reale perché attraverso questo furto volevamo annientarci sterminarci annientarci sterminarci quello che noi facciamo che l'essere umano fa secondo Lacan quando persegue un godimento che vorrebbe escludere la legge cioè vorrebbe escludere il fatto che la mancanza accompagna strutturalmente il desiderio umano quando noi vogliamo estirpare la mancanza dal desiderio noi rischiamo di annientarci di sterminarci perché il fondamento del desiderio è proprio l'esperienza del non tutto non tutto è possibile non tutto ma nella misura in cui la spinta di quei ragazzi era a possedere tutto e a rigettare il non tutto e a voler godere di tutto il godere di tutto comporta l'annientamento come dice Agostino lo sterminio dell'esistenza questo modo oppressivo del reale che per Lacan trova la sua massima raffigurazione nel desiderio perverso che appunto è la volontà di godere del tutto del tutto eh qui su questo si potrebbe veramente l'ho fatto nel libro dedicato alla Bibbia mostrare la differenza tra quello che il dio ebraico della Torah invita l'uomo l'umano a fare godete di tutto nel giardino godete di tutto potete godere di tutto il dio ebraico non è un dio fustigatore non è il dio faraone dice godete di tutto potete godere di tutto di tutto ciò che è vivo potete godere ma non del tutto del tutto non potete godere potete godere di tutto ma non del tutto perché nel godimento del tutto che è il godimento che ricerca il perverso c'è non volontà di vita ma volontà di morte ecco questo allora mette una getta una luce nuova sull'episodio della furto delle perdi e rostino in cui allora noi non abbiamo la semplice dialettica paolina legge e trasgressione della legge ma abbiamo la spinta a godere del tutto e il rimbalzo mortifero di questa spinta nell'annientamento e nello sterminio aggiungo l'ultima cosa è un'altra distinzione che ci aiuta a comprendere il concetto di reale e l'account abbiamo detto il reale prende forme affermative ne abbiamo viste tre e forme oppressive ne abbiamo viste diverse ma il reale può prendere anche la via la forma diciamo così il modo meglio il modo dell'eccesso appunto godere di tutto il modo dell'eccesso oppure il modo della inesistenza Lacan insiste continuamente su questi due punti il reale può prendere le forme dell'eccesso appunto il godere del tutto ma anche le forme della inesistenza per esempio è impossibile che nell'amore i due facciano uno è impossibile che possa esistere dice Lacan in una formula famosa che ho commentato tante volte possa esistere il rapporto sessuale l'inesistenza del rapporto sessuale è il modo sottrattivo che Lacan ha per dire il reale il reale quindi non è solo l'eccesso la schiavitù il godimento dell'annientamento dello sterminio ma prende anche le forme della come dire di una inesistenza cioè dell'impossibilità del rapporto dell'impossibilità del rapporto questa impossibilità del rapporto spero di non complicare troppo le cose ma questa impossibilità del rapporto ha una lunga storia nel pensiero di Lacan comincia dall'inizio quando nasce il bambino e il bambino vede la sua immagine allo specchio e cerca di catturare la propria immagine allo specchio di coincidere con la propria immagine allo specchio e deve verificare ogni volta l'impossibilità di questa coincidenza è per questo che gli esseri umani sono appassionati allo specchio perché ci si guarda allo specchio in continuazione più o meno insomma noi ci guardiamo allo specchio perché vorremmo catturare vorremmo coincidere con l'immagine ideale che lo specchio costantemente ci restituisce e mentre ci restituisce l'immagine ideale di noi stessi ci restituisce anche l'inadeguatezza di noi stessi di coincidere con quell'immagine ideale questa coincidenza tra l'al di qua e l'al di là dello specchio non si può colmare non si può come dire non si può ricongiungere l'al di qua e l'al di là dello specchio non si possono ricongiungere e dunque qui appare il reale il reale è esattamente l'inesistenza di questa coincidenza tra l'essere reale e l'essere ideale il secondo passaggio che Lacan fa sul termine del reale come inesistenza è quando dice ogni analizzante cioè ogni paziente fa costantemente nella sua analisi l'esperienza di una non coincidenza tra il dire cioè le parole dell'analizzante quello che l'analizzante dice di sé dal divano quando appunto parla di sé ciò che l'analizzante dice di sé non può mai coincidere con l'essere dell'analizzante io parlo di me all'analista ma ogni volta che parlo di me percepisco l'insufficienza di ciò che dico di me perché non è quello che vorrei dire di me perché nel mio dire non c'è il mio essere perché ogni volta che provo a dire il mio essere il mio essere sfugge dal mio dire è la dimensione che Lacan descrive come strutturalmente deludente dell'ordine simbolico cioè che ogni volta che il paziente prova a dirsi a dirsi e il suo essere sfugge da quel dire nonostante il paziente per esempio rispetti alla lettera la regola fondamentale dico tutto quello che mi passa per la testa ma sebbene io dica tutto anzi proprio perché dico tutto quello che passa per la mia testa nessuna di queste parole è in grado di dire l'essere allora vedete come la non coincidenza che attraversa l'immaginario e che fa apparire il reale nell'immaginario fa apparire il reale anche nel simbolico la discrepanza la divergenza tra il dire e l'essere il mio dire non è in grado di dire il mio essere è per questo che le analisi durano tanto perché uno ci provi ci prova ci prova a far coincidere il dire con l'essere fino a che dovrà capire che questa coincidenza non si può dare la stessa e la terza la terza scansione è quella del rapporto tra i sessi è quella della inesistenza del rapporto sessuale cioè lo sforzo di ogni paziente neurotico impegnato nelle relazioni amorose è quello di fare esistere il rapporto fare rendere possibile il rapporto per esempio nella follia che ha dato vita gli ultimi fatti drammatici di cronaca per esempio nella follia dell'assoluta condivisione di tutto quali sono le coppie che soffrono sono le coppie che vogliono condividere tutto più si punta alla condivisione di tutto più c'è follia follia due direbbe Lacan più c'è follia perché il due l'uno e l'altro non possono coincidere non può coincidere l'essere reale con l'immagine ideale non può coincidere il dire con l'essere non può coincidere l'essere dell'uno con l'essere dell'altro la spinta la coincidenza è la tentazione fondamentale del fantasma del fantasma sessuale diciamo così Freud diceva nella sessualità si realizza la più profonda delle unificazioni dell'essere dell'uno con l'essere dell'altro Lacan dice il contrario dice che la più profonda delle unificazioni è diciamo così un fantasma illusorio perché in realtà io posso scavare nel corpo dell'altro posso violare il corpo dell'altro posso possedere spingermi a possedere il corpo dell'altro ma niente di questo renderà per me possibile l'accesso al segreto dell'altro quello che diceva Roland Barthes quando parlava del tempo io posso smontare una sveglia vedere tutti gli ingranaggi della sveglia ma nella sveglia non c'è il tempo quindi io posso bruciare il corpo dell'altro dissanguare il corpo dell'altro ferire il corpo dell'altro violare possedere il corpo dell'altro ma avrò nelle mani solo gli ingranaggi della sveglia la libertà dell'altro non è un ingranaggio ma è qualcosa che sfugge costantemente a ogni tentativo di appropriazione e allora qui viene fuori l'ultima versione del reale su cui mi soffermo cioè da una parte la Kant dice il rapporto sessuale non esiste perché nessuno potrà catturare il segreto dell'alterità dell'altro diciamo così perché più 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 rigorosamente i i modi di godimento sono eterogenei tra loro il modo fallico e il modo femminile del godimento sono eterogenei tra loro l'uno non può coincidere con l'altro dunque dobbiamo constatare l'inesistenza del rapporto che cosa supplisce l'inesistenza del rapporto come possiamo sopportare che non esista il rapporto beh per la Kant attraverso l'amore l'amore è la possibilità di supplire alla inesistenza del rapporto sessuale cioè del fatto che io posso carpire possedere il godimento del corpo dell'altro questo è un fatto di scusate di esperienza molto semplice adesso sto concettualizzando troppo due che fanno l'amore nessuno dei due può sentire quello che l'altro sente il godimento che pure è provocato dal rapporto è incomunicabile io non posso sentire quello che sente il corpo dell'altro anche se io godessi nel far godere l'altro nel rapporto io non posso sentire il godimento dell'altro quindi il godimento provoca necessariamente un'esclusione dell'uno dall'altro anche nell'orgasmo che noi immaginiamo più simultaneo possibile più profondo possibile io non posso sentire il godimento dell'altro quindi nel rapporto c'è un non rapporto fondamentale cosa si fa con questo non rapporto lo si rifiuta lo si perseguita lo si maledice oppure lo si fa diventare questo non rapporto il luogo di iscrizione dell'amore che allora sarebbe il modo di entrare in rapporto con l'impossibilità del rapporto di entrare in rapporto al non rapporto e allora il punto non è più condividere tutto ma è condividere insieme i due condividere l'impossibilità di condividere tutto condividere l'incondivisibile questo per Lacan è la forma dell'amore ma condividere l'incondivisibile dico l'ultima cosa poi non vi poi vi lascio giuro ma condividere l'incondivisibile questa è l'ultima capriola che facciamo la più difficile forse condividere l'incondivisibile non voglio confondervi del tutto condividere l'incondivisibile significa anche riconoscere il fatto che io non posso sottrarmi al rapporto quindi io non posso fare esistere il rapporto l'abbiamo detto no? io non sento quello che sente l'altro non posso essere l'altro non posso fare esistere il rapporto ma non posso sottrarmi al rapporto perché nessun essere umano può sottrarsi al rapporto come diceva una mia paziente fervente cattolica nella preghiera matutina quando in una seduta mi raccontò il suo lapsus strabiliante mentre recitava il Padre Nostro disse e liberaci dalla relazione grazie 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 grazie